Una saccatura tende ad approfondirsi sulla penisola iberica, mentre sull'Italia insiste un promontorio anticiclonico. Nei prossimi giorni l'area di bassa pressione tenderà lentamente a muoversi verso Levante. In Toscana, mercoledì 22 marzo, molto nuvoloso, con locali piogge, più probabili sulle zone di nord-ovest, venti deboli o moderati meridionali, mari da poco mossi a mossi, temperature massime in lieve calo nelle zone interne. Sul territorio provinciale molto nuvoloso, coperto con locali deboli piogge, a Lucca e sulla Piana temperatura minima 10, massima 17 gradi, a Castelnuovo Garfagnale zone montane minima 10, massima 14, a Via Regge sul litorale minima 11, massima 17 gradi, giovedì ancora molto nuvoloso, coperto con piogge più intense dal pomeriggio, temperature stazionarie o in lieve aumento. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!